Assieme ai nostri ragazzi vi do il benvenuto all'Istituto Omnicomprensivo Fanfani Camaiti. Benvenuti, ci troviamo nell'Istituto Fanfani Camaiti all'interno di uno dei nostri laboratori per parlarvi di agrobiodiversità. La nostra scuola è banca regionale del germoplasma e collabora con i coltivatori custodi per la tutela e conservazione delle antiche varietà. Il progetto consiste nel censimento di tutte le varietà presenti nella zona e dopodiché una creazione di un campo catalogo. Alcune di queste varietà non sono apprezzate commercialmente ma il nostro compito è quello di tutelarle, conservarle e valorizzare il loro patrimonio genetico.